Tempo di Natale per la Sancat, tempo di bilancio anche di fine 2015, accanto a me c'è Michele Pierguidi, uomo simbolo non soltanto della Sancat ma un po' di tutto il movimento del basket fiorentino. Michele, prima di tutto, buonasera. Buonasera a tutti gli utenti del sito Firenze Basket Blog. Allora Michele, è un momento importante anche all'interno di un anno importante per la Sancat perché comunque svolgete un ruolo, non dico di capofila, ma comunque di grande importanza per il basket fiorentino. Che anno è il 2015 che si sta per chiudere per la Sancat? Il 2015 ci ha regalato grandissime soddisfazioni, abbiamo fatto l'Interzona con la squadra del 2000 e siamo adesso posizionati al terzo posto con l'Under 16 eccellenza, con un gruppo fantastico e da tantissimi anni insieme. Stefano Corsini sta guidando questo gruppo per ora veramente in maniera incommiabile, dando una bella continuità al lavoro fatto in questi anni da Tommaso Paoletti. Il bilancio quindi diciamo che è più che positivo, però come un po' il tuo stile e come nello stile Sancat non è mai tempo di fermarsi, quindi ti chiedo come volete chiudere questo 2015, di dargli magari un voto e anche che pensiero hai per l'anno che sta arrivando per il 2016? Il 2015 il voto è molto alto, abbiamo per questa stagione sportiva scelto la via più difficile, fare tre campionati di eccellenza con il 2002, con il 2001 e con il 2000, l'unica società a Firenze che ha fatto questa scelta. Pensiamo di avere buoni gruppi, adesso la nostra scommessa è mentalizzare e far capire a tutti, giocatori e famiglie, quello che noi vogliamo fare. Abbiamo gruppi tecnicamente e fisicamente importanti, tutti e tre questi gruppi. Ci stiamo lavorando tantissimo con allenatori professionisti come Francesco Cappelletti, come Stefano Corsini, con preparatori atletici di primaria importanza come Carlo Laface, come Giulio Bruni e ci mettiamo veramente un grandissimo impegno per far sì che questi ragazzi, ognuno di questi ragazzi diventi un giocatore migliore. Chiediamo a tutti un grande impegno, un grande sacrificio, noi facciamo campionati dove ci sono le migliori squadre d'Italia, quindi chiaramente la competizione è una competizione importante. Non è facile giocare tanti minuti nelle nostre squadre, però il lavoro che fa la Sankat è un lavoro sul miglioramento dei ragazzi individuali. Pensiamo di essere veramente capofila sotto questo aspetto a Firenze. I risultati sul campo sono un po' altalenanti per i gruppi 2002 e 2001, sono ottimi per ora per il gruppo 2000, secondo me invece i miglioramenti individuali sono evidenti. Le famiglie ci devono seguire, è una scelta difficile, dispendiosa perché economicamente i campionati nazionali costano, gli allenatori professionisti chiaramente devono essere retribuiti, così come i preparatori atletici. Però lo facciamo per i nostri ragazzi per far sì che anche dalla Sankat escano giocatori di pallacanestro. Allora, per cui ho intrapreso una strada di qualità impegnativa che sarà portata avanti anche nel 2016, ti chiedo anche la vicinanza per esempio col Pino Dragons con cui si sentono un po' di rumors, di un'amicizia e di un legame sempre più stretto. L'amicizia e il legame sono con tutte le società fiorentine, compreso il primo Dragons. Abbiamo ottimi rapporti con tutti, con Olimpia Legnaia, con Laurenziana Basket, con Pino Dragons, con Firenze 2. Abbiamo una collaborazione importantissima per noi con l'Unione Sportiva Africa e la Polisportiva Pian del Mugnone che va avanti da anni. Marco Ciani ne è responsabile del progetto Bianco Blu. Abbiamo fatto le squadre insieme, abbiamo fatto gruppi eccellenza Sankat, ma abbiamo fatto anche gruppi regionali e elite importanti all'Unione Sportiva Africa, anche con tanti giocatori della Sankat. È un gruppo bello di Under 18 regionale nella società di Luca Borsetti del Pino Dragons. Abbiamo tanti giocatori sparsi, un po' perché abbiamo deciso di fare questo tipo di campionati, ma anche perché abbiamo chiaramente grandi problemi di spazi, come ogni società con tanti ragazzi e quindi abbiamo fatto anche queste scelte. Ma sono scelte che stanno pagando perché i ragazzi continuano a fare attività, non smettono di giocare, la fanno al proprio livello e quindi credo che svolgiamo una funzione tecnica e sociale veramente importante. Ti chiedo anche da osservatore, sempre piuttosto presente su tutti i campi di Firenze, di dare un po' una tua immagine del movimento che si è chiuso, Fiorentino, che si è chiuso in questo 2015. Qualche spunto, la Fiorentina che dopo qualche difficoltà iniziale sta migliorando il suo percorso e punta dritto alla salvezza. Il Pino che viene da nove vittorie consecutive e sta marciando forte in C-Silver. Come vedi il momento del basket senior Fiorentino? Il Pino ha un progetto importante, va a giocare tantissimi giovani, quindi si vede una squadra che ha veramente ampio respiro e che ha un futuro. Perché Lapo Salvetti, Luca Borsetti e la società hanno fatto una scelta, secondo me, molto intelligente. Stanno venendo risultati, ma anche se non fossero così eccezionali questi risultati sul campo come adesso in questo momento sono, si riconosce una logica importante, quella di far giocare i propri ragazzi del settore giovanile e di dargli molta importanza. La Fiorentina basket sta facendo bene, devo dire che le ultime due settimane sono state due settimane sorprendenti. Sono partiti in punta di piedi non facendo proclami, hanno detto che il loro obiettivo è la salvezza, hanno preso un grandissimo allenatore perché Salieri è veramente, per questo tipo di squadra, forse il migliore allenatore. E adesso, aggiustando la squadra con l'innesto di Valentini, con la grande vittoria nell'ultima partita, mi pare, a San Giorgese, insomma, sono lì che se la giovano per la salvezza. Io mi auguro, grazie anche, che l'impegno di Antonio Fagotti sia ripagato e che si possano salvare per avere un progetto più ambizioso il prossimo anno. Se avranno bisogno di un aiuto, come prima squadra, dalla Sancat, sia il Pino Dragons che la Fiorentina basket, noi ci saremo. Natale Sancat, Michele Perguidi, ultima considerazione, cosa augura a tutta la sua società anche per il 2016? Natale Sancat vuol dire anche mini basket Sancat. Ci vantiamo di essere una scuola di basket veramente tra le più importanti. Antonio Calamai insieme a Antonio Innocenti e a Matteo Venturini e a tanti altri si stanno dando affare per il nostro settore mini basket. Alessandro Donnini col 2003, Francesco Cappelletti col 2004, abbiamo un 2005 gruppo fantastico, così come il 2006-2007 e i Pulcini. Natale Sancat è la festa che faremo qui il 22, sarete anche voi, spero, invitati di questa festa. Vuol dire tanto impegno, tanta allegria e dobbiamo sinceramente festeggiare perché è stato un anno eccezionale per noi.